GFRA La GFRA in special modo è un integratore di impianti di saldatura, collabora con KUKA in questo da ormai 5-6 anni. Uno degli ultimi progetti ad esempio è una collaborazione per la produzione di telai moto per la Ducati Motor Holding, però genericamente tutta la General Industry fa parte del nostro know-how, quindi dall'alimentare, piuttosto al furniture, all'arredamento, piuttosto che comunque automotive. Negli ultimi anni abbiamo implementato diversi impianti più o meno standard per aggredire anche i mercati esteri, diciamo del bacino del Mediterraneo. Mentre in Italia customizziamo molto il prodotto sulle richieste e sulle esigenze più mirate del cliente. Il rapporto con KUKA è abbastanza ormai conclamato da parte nostra, la collaborazione sia con la parte commerciale che con la parte tecnica è molto proficua. C'è un ottimo management da parte di KUKA a livello commerciale, un supporto al marketing notevole e la parte tecnica è sicuramente di grosso aiuto anche a noi poveri in System Integrator. Normalmente il progetto viene affrontato assieme alla KUKA Robot Italia per proporre una miglior soluzione finale al cliente.